cari telespettatori buona giornata ben arrivati i nostri ospiti ve li presento subito il professor carlo foresta andrologo grazie di essere qui con noi grazie a lei e il dottor gabriel petre nutrizionista parleremo di un argomento molto importante delicato però richiede l'attenzione perché perché si parla di prevenzione in ambito andrologico purtroppo ci sono dei numeri che non sono rassicuranti perché si parla di un'incidenza di tumore i testicoli che colpisce soprattutto anche i giovani maschi aumentata del 2 per cento all'anno in veneto c'è un primato rispetto ad altre regioni d'italia allora cerchiamo di capire professore come mai questi questo incremento che cosa riguarda cosa vuol dire anche fare prevenzione in ambito andrologico che è un concetto un po non ancora parte della nostra cultura intanto diciamo che il tumore del testicolo è il tumore più frequente nel maschio nella fascia di età compresa fra i 18 e i 40 anni pur essendo il più frequente è un tumore di cui si parla molto poco e in ogni caso non c'è nessuna forma di cultura per la prevenzione di questo tumore 18 40 anni quindi giovane età si giovanissima età la fascia più colpita è tra i 20 e i 30 anni la massima incidenza sia in quell'età le conseguenze di questo tumore possono essere di vario tipo abbiamo la possibilità di avere un tumore in fase molto avanzata quindi interventi chirurgici complessi terapie chemioterapie radioterapie con perdita in questi casi della fertilità o compromissione della sessualità ma certe volte anche per fortuna non molte la possibilità anche di come dire alterazioni complesse che non comportano poi la guarigione ovviamente se lo si scopre in tempo si evita tutto quanto questo addirittura c'è un intervento chirurgico minimo proprio le nucleazioni del tumore e quindi si fa una come dire si salvaguarda tutto quanto quello che c'è dietro a tutto quanto di quell'intervento pesante di chirurgia di terapie mediche eccetera che altrimenti si dovrebbe fare i giovani non sanno che esiste il tumore del testicolo infatti magari è una questione che deve essere affrontata anche subito in giovanissima età però è difficile qui salta subito agli occhi il parallelismo con la diversità che c'è con le donne perché il tumore del collo dell'utero quello indotto dal papillomavirus nella stessa fascia di età per la donna dai 18 ai 49 anni colpisce lo stesso numero di donne rispetto al numero di uomini colpiti dal tumore del testicolo addirittura identico però le donne sanno cosa fare per prevenire per scoprirlo per tempo per evitare che ci siano poi delle complicazioni pap test ecografie visite ginecologiche eccetera eccetera l'uomo non sa neanche che ci può essere questo tumore tant'è vero che molte volte vengono da noi con un tumore che è veramente già molto grande hanno un testicolo grande come una mela ma lei sta scherzando cioè addirittura già in condizioni in condizioni si molto avanzate ma allora dobbiamo parlarne dobbiamo dire ai ragazzi che c'è questa possibilità insegnare a loro l'autopalpazione così come si insegna alle donne l'autopalpazione del seno invitarli a sottoporsi ad un controllo di tipo andrologico almeno una volta nella fase adolescenziale per capire se ci sono normalità o anomalie del sistema riproduttivo che tempi ha la formazione di questo tumore quindi può essere lenta ma c'è ancora un'altra informazione che dobbiamo dare che questo tumore è più frequente in alcune situazioni per esempio se un bambino è nato con il criptorchidismo vado a dire con la mancata discesa del testicolo nello scroto siamo intorno al 23 per cento dei nati quel testicolo criptorchide è più probabile che possa andare incontro al tumore il rischio aumenta di quattro cinque volte se il bambino se il giovane adulto presenta uno sviluppo testicolare non completo c'è una ipotrofia del testicolo un testicolo meno sviluppato quel testicolo ha più probabilità di andare incontro al tumore eccetera eccetera ci sono delle condizioni che sono a rischio e quindi a 18 anni sapere se si è a rischio di questo è già un'informazione molto importante perché quel giovane può poi seguire un percorso di controllo per evitare che ci siano delle che ci siano delle situazioni più complicate ecco ma qui dovrebbe essere già il pediatra che in qualche modo allerta la famiglia attenzione questo bambino in fase adolescenziale dovrà essere tenuto particolarmente sotto controllo infatti noi stiamo costruendo con molta attenzione una rete che porti il giovane dalla nascita fino alla fase adulta come dire accompagnato dalle attenzioni del medico della famiglia e poi del medico di medicina generale perché ci siano queste informazioni che siano passate da un medico all'altro e che diano garanzia di salute al bambino stesso ecco tumore testicolo fattispecie che la cosa un po che può spaventare anche perché quando uno parla appunto di un problema oncologico non è certo piacevole ci spieghi le varie tipologie perché immagino che ce ne possano essere diversi anche il tipo di come si risolve ci sono varie forme ci sono ci sono i seminomi semplici gli adenocarcinomi ci sono quelli che sicuramente si risolvono con le terapie mediche chirurgiche che sono la gran parte per fortuna quindi non c'è tanto il rischio per la vita perché raramente si rischia la vita con il tumore del testicolo ma è la compromissione del benessere che è importante tant'è vero che oggi quando uno si scopre che ha il tumore del testicolo la prima cosa che si fa è quella di crioconservare il suo liquido seminale i suoi spermatozoi perché durante l'iter di trattamento del tumore potrebbe andare incontro poi ad una perdita degli spermatozoi stessi però anche con un solo testicolo può essere che non ci sia una produzione ormonale adeguata e quindi nell'iter dopo l'intervento bisogna stare attenti a che ci sia poi un equilibrio degli ormoni testicolari ci sono vari aspetti non ultimo quello psicologico che deve essere tenuto in grande considerazione soprattutto perché oggi c'è ancora lo stereotipo del maschio inteso come il maschio che può tutto che potente eccetera eccetera e la perdita di un testicolo può significare dal punto di vista psicologico una menomazione importante soprattutto quando si vive poi in comunità negli spogliatoi nello sport eccetera può essere come dire pericoloso dal punto di vista psicologico vivere questo passaggio c'è il rischio che possono essere compromessi altri organi o di metastasi come avviene in altri tumori certo ci sono le metastasi come tutti quanti gli altri tumori alcune forme di questo tumore possono dare metastasi e infatti si cercano sempre con molta attenzione già a seconda dell'istologia ma soprattutto durante l'intervento se sono di istologia che in qualche modo proietta verso la formazione di metastasi si cercano e si cambia anche il tipo di intervento terapeutico sia chirurgico che medico per evitare che le metastasi possano essere poi un momento di complicazione diciamo della malattia stessa l'intervento chirurgico è particolarmente invasivo che tipo di intervento è importante? ma noi abbiamo avuto con noi il nostro primario dell'urologia il Filiberto Zattoni che ha presentato insieme a noi questo progetto di prevenzione del tumore ecco perché ricordiamo c'è un progetto proprio che in corso in questo periodo durerà un paio di mesi certo il progetto è quello di invitare i giovani a venire in fondazione e a sottoporsi all'esame ecografico dei testicoli la fondazione foresta sede a Padova sede a Padova certo e a dire il vero per sollecitare questo noi abbiamo predisposto anche un camper con un ecografo portatile sabato scorso in centro a Padova e non avremmo mai immaginato di trovare tanti giovani che in centro a Padova venivano a farsi fare l'ecografia dei testicoli la cosa ci ha fatto molto piacere ci ha dato anche un po' di commozione perché vuol dire che abbiamo sdoganato un problema e che per i giovani non è più come dire un tabù parlare di testicoli, parlare di tumore di sottoporsi all'esame in piazza stesso per essere più tranquilli questo ci ha fatto veramente piacere quindi sostanzialmente la prevenzione può avvenire con una strumentazione diagnostica adeguata sì ma soprattutto con l'attenzione noi sottolineiamo molto il significato dell'autopalpazione e con l'attenzione e sollecitiamo il medico che segue questi giovani di individuare quelle componenti, quelle frazioni che sono più a rischio perché abbiano invece poi un percorso un po' più calibrato, un po' più attento perché in quei casi si può veramente prevenire la complicanza del tumore stesso come mai in Veneto c'è un'incidenza maggiore rispetto ad altre regioni? perché c'è un maggior controllo? perché avete fatto un'attività di sensibilizzazione voi? oppure per altri motivi? dobbiamo dire che i tumori del testicolo stanno crescendo in frequenza un po' in tutto il mondo e anche in Italia abbiamo circa un 2% all'anno però sono più frequenti nei paesi fortemente industrializzati e fortemente contaminati evidentemente noi nel nord Italia perché l'incremento è di tutto il nord Italia il Veneto un po' di più nord 7,6, centro 7,1, sud 6,4 ogni 100.000 residenti dicevamo che ci sono queste sostanze chimiche che sono di derivazione industriale che funzionano, interferiscono con l'attività degli ormoni forse addirittura durante la fase embrionale ed è lì che si forma il testicolo con tutta quanta la sua complessità organizzativa se c'è un'alterazione da parte di queste sostanze che interferiscono con l'attività degli ormoni si determina quella che viene definita ormai disgenesia testicolare che comporta una maggiore frequenza di tumori una riduzione del numero di cellule che producono spermatozoi e una difficoltà di discesa del testicolo che si chiama criptorchidismo sono tre manifestazioni che stanno incrementando nei paesi industrializzati e che portano proprio al concetto di una disgenesia di un'alterazione della formazione del testicolo per interferenze ambientali quindi vuol dire che sostanzialmente chi è di una certa generazione quando ancora questa interferenza ambientale questo inquinamento ambientale non era così importante si salva rispetto a chi invece è nato più di recente o nasce adesso con un inquinamento di livelli spaventosi o ci può essere un'insergenza anche in età adulta over 50 o che so io non è cambiata l'età di insorgenza del tumore è rimasta sempre stabile però c'è da dire una cosa che mentre molti altri tumori sono sicuramente in fase di diminuzione di frequenza il tumore del testicolo sta incrementando è uno dei rari tumori che è in incremento e io prendo ad esempio il tumore sempre del collo dell'utero c'è una diminuzione veramente straordinaria adesso abbiamo anche il vaccino per l'epapilloma virus che sicuramente ridurrà ancora questo ma perché c'è questa riduzione e questa diciamo diminuita importanza di complicanze dovute al tumore stesso perché lo si scopre per tempo perché c'è il vaccino che impedisce l'insorgenza e perché c'è tutta una serie di attività che impediscono che il tumore insorga e si moltiplichi senza che nessuno se ne accorga per l'uomo questo non c'è allora dobbiamo stare attenti a fare cultura a dare dei segnali chiari ad insegnare delle modalità di prevenzione del tumore stesso ecco ma l'over 50 l'over 40 anni i 60enne i 70enne deve farsi controllare? ma non per il tumore del testicolo sono molto rari ah sono molto rari per cui non c'è necessità di creare una campagna di prevenzione per il tumore del testicolo per le persone più inalenti no non c'è di perfetto ma perché ci sono altri invece tumori per i quali si parla di sopra i 50 anni per l'uomo si passa alla prostata immediatamente al polmone si passa ad altre forme di tumore ma non è tumore del testicolo nel testicolo sono salvi quindi chi ci segue per i propri figli e nipoti sostanzialmente figli e nipoti chi è adulto ci segue torniamo su questi argomenti e poi vediamo quali sono anche le persone che possono essere maggiormente esposte se ci sono anche dei fattori oltre che ambientali importanti ma di stili di vita tra poco dopo la pubblicità grazie a tutti